noti su si è iniziata benvenuti alla conferenza i cing il libro dei mutamenti allora nel frattempo che aspettiamo che si connette qualcuno o ecco adesso dovremmo essere sicuramente in diretta perfetto aspettiamo un attimino che si connetta qualcuno nel frattempo mi presento e vi dico più o meno di cosa parleremo oggi allora vedo che già due persone sono connesse allora alcuni di voi mi conoscono già altri invece non mi hanno mai visto mi vedono per la prima volta io sono irene angelini in arte bimba sperduta e mi occupo di divinazione da circa 20 anni da circa 20 anni studio la divinazione ho iniziato con i tarocchi e poi ho proseguito con diverse tecniche divinatorie una di queste è appunto lì cing diciamo che lì cing è il mio secondo grande amore subito dopo l'amore per i tarocchi viene il grande amore per lì cing ciao stefano benvenuto sono contenta che sei riuscito a connetterti e vi dicevo che appunto lì cing è il mio secondo amore o quest'oggi ho preparato un po di libri per rendere interattiva la conferenza e vi racconterò innanzitutto come nasce il libro dei mutamenti e quali sono le sue caratteristiche e come si usa ok allora partiamo intanto dal come nasce il libro dei mutamenti tra i libri più più antichi tra i sistemi divinatori più antichi finora esistenti nel pensate che deriva dalla divinazione con le ossa anticamente nel paleolitico mircea eliade nella storia delle credenze religiose storia delle credenze e delle idee religiose qui nel secondo volume eccolo qua ci spiega che lì cing ha origine già nel paleolitico pensate un po anche se non era esattamente quello che che oggi non è lì cing la divinazione con le monete e tutto il resto però si utilizzava già allora la la divinazione per mezzo delle ossa era un tipo di divinazione usata un po in tutto il mondo da tutti i popoli del o quasi del paleolitico e attualmente non si conosce molto bene che quale fosse la pratica vera e propria abbiamo dei ritrovamenti in cina databili alla scusate però io ho preso appunti ieri perché sennò non posso ricordare tutto allora sono ecco i primi ritrovamenti di osteomanzia cioè la mantica fatta per mezzo delle ossa che venivano gettate nel fuoco e si interpretavano le crepe le bruciature di queste ossa i primi in cina ce li abbiamo tra il 1500 e il 1111 avanti cristo che noi abbiamo ritrovato abbiamo ritrovato delle ossa finemente lavorate finemente scolpite e quindi presuppone una tecnologia piuttosto sviluppata però mircea eliade ci fa sapere che l'osteomanzia è molto 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 più antica risale addirittura al paleolitico e viade sempre ci informa che le idee che sottendono li ching ovvero le idee riguardo il tao sono appunto derivanti già dal paleolitico già nel paleolitico si iniziano a formare delle concezioni religiose che poi verranno portate avanti si svilupperanno ma sostanzialmente resteranno avranno un nucleo centrale che resterà sempre lo stesso e quali sono queste queste idee allora queste idee io ho preparato per voi eccolo qua questo libro con la telecamera a specchio non mi trovo mai allora in questo libro per perché voglio farvelo voglio farvelo vedere allora intanto vi faccio vedere questa immagine centrale perché ci fa vedere come veniva usato inizialmente li ching vedete con questi bastoncini all'inizio inizio la prima il primo utilizzo degli ching si fa attraverso i gusci delle tartarughe cioè venivano sacrificate delle tartarughe sacre alle divinità e perciò si leggevano poi le bruciature che cammini che arrivano sul carapace della tartaruga sono stati ritrovati moltissimi carapace di tartaruga e pensate che la divinazione con questo tipo di divinazione era così importante e così utilizzata che ben presto le tartarughe che venivano usate per questo scopo rischiarono l'estinzione al perciò perché non insomma dato la difficoltà di trovare questi animali si cominciò quindi ad utilizzare la divinazione per mezzo dei bastoncini di achillea millefoglie stiamo parlando appunto vedete di questi bastoncini qui riuscirò ad inquadrare ecco qua vedete poi poi si è passati alle monete perché sono decisamente più più semplici anche giordano berti nella sua storia della divinazione concorda con me è molto più semplice eseguire la divinazione con gli steli di achillea piuttosto che spiegarla in pratica venivano presi questi un certo numero di steli e poi vengono separati contati e separati ancora poi riuniti ricontati eccetera secondo alcuni criteri e dopo di che con quelli che rimangono si stabilisce se il primo il primo segno che che otteniamo è un segno pari o dispari e quindi femminile o maschile o scuro o luminoso e eseguendo questa operazione per ben sei volte si giunge poi a costruire l'esagramma e da lì a rintracciare quello che può essere l'oracolo naturalmente è una un'operazione veramente molto molto lunga allora io mi rendo conto che sto andando un po troppo veloce quindi mi fermo un momento e vorrei aspettare un attimino intanto vi informo che potete partecipare potete tranquillamente interagire durante la conferenza se avete delle domande da fare che siano inerenti cortesemente alla conferenza non è un momento di divinazione scusate se mi soffermo se ribadisco questo concetto però non è così banale mi capita spesso che durante le conferenze online durante le dirette qualcuno mi faccia delle domande che non c'entrano con con l'argomento di cui stiamo parlando pensando che questa sia una una consultazione in diretta non lo è perciò a parte appunto domande di carattere di consulto per tutto il resto potete chiedermi veramente qualsiasi cosa potete intervenire con le vostre osservazioni condividere quelle che sono le vostre esperienze quelli che sono le vostre riflessioni e a me piace molto poter interagire anche lo faccio anche durante le conferenze dal vivo in genere chiedo sempre alle persone di di interagire anzi proprio a questo scopo scusatemi ma io switcho un momento nelle altre pagine perché abbiamo ho pensato di a ok la bibliografia che presento sicuramente sicuramente stefano metto subito la bibliografia saluto monica napolitano e maria teresa nobile che mi seguono dalla pagina dei tarocchi di bimba sperduta e sì dopo sicuramente vi do la bibliografia anzi magari farò un post apposito tutti i libri che di cui vi parlerò oggi sono ovviamente potete potete richiederli alla libreria l'alchimista saluto anche katia e giuseppe che mi stanno seguendo dalla pagina agenda della mela e vediamo su cronache esoteriche se ci sono delle domande nel frattempo voi scrivetemi tranquillamente se mi allora naturalmente chi vuole connettersi direttamente dalla dalla pagina libreria l'alchimista sappiate che vedo i commenti in tempo reale altrimenti se vi connettete dalla dall'altra pagina non vi preoccupate dovete soltanto darmi un attimo di tempo per potermi connettere dalle varie pagine allora lucia alberti che saluto si connette da cronache esoteriche mi scrive saluto anche silvia che si è connessa sempre da cronache esoteriche dice che non ha capito molto bene allora cara lucia intanto fammi sapere quale concetto non ti è chiaro però hai ragione molto probabilmente io sono andata troppo velocemente e quindi facciamo una pausa un momento ok allora partiamo da zero perché io ho dato per scontato sbagliando che tutti gli ascoltatori sappiano cosa è lì cing a cosa serve e cosa sia soprattutto un esagramma un esagramma un trigramma in realtà stiamo parlando di un mondo di un universo che non tutti conoscono quindi rewind partiamo da zero ok tutto chiaro io incomincio quando c'è qualcosa che che non è chiaro mi stoppate e io riparto allora un momento ellison raffo ci scrive io uso lì cing da quando l'ho scoperto per me stessa ma ci sono delle cose che non conosco per esempio lei ha appena detto femminile maschile in relazione con i numeri pari e disperi può spiegare un po meglio per favore grazie ok allora è molto strano ellison che qualcuno usi lì cing e non abbia confidenza con il concetto di maschile e femminile legato ai numeri pari e dispari però è una cosa che può succedere soprattutto se magari io non so se il tuo caso ellison però è soprattutto se si usano le carte del lì cing e quindi si hanno già gli esagrammi belli pronti ok allora io direi di partire naturalmente questa conferenza e complementare non legata ma complementare al seminario che terrete terror il il 17 di maggio per la libreria l'alchimista allora io sto cercando un momentino un esagramma perché cominciamo da lì eccoli quasi ecco qui gli esagrammi vediamo se riesco a trovarne qualcuno scritto bello grande ad immagine grande perché prima ho provato a vedere se potevo condividere lo schermo ma pare di no no gli esagrammi sono tutti sono tutti piccolini ok la verità interiore lo vedete vedete questo questo simbolo con sei linee questo qui è un esagramma nelle cing ne abbiamo ben 64 sono formati appunto da linee intere e spezzate che hanno origine dai 3 grammi questi qui questi naturalmente abbiamo 8 3 grammi quindi non sono tutti uguali l'interazione di questi 8 3 grammi danno vita agli esagrammi allora però io vi voglio leggere vi voglio raccontare la leggenda su come è nato lì cing allora nella cosmogonia cinese si pensava che inizialmente esistessero solo il cielo e la terra il cielo mentre nel paleolitico appunto ha una un aspetto antropomorfo quindi è un dio del cielo un dio vero e proprio con il passare del tempo questo questo dio del cielo diventa sempre più astratto rimane una un certo sentore continua ad essere chiamato in un certo senso il supremo questa è la massima antropomorfizzazione di questa divinità ma questo supremo questo cielo questo luminoso a un certo punto smette di essere una divinità antropomorfa e diventa un principio il principio luminoso il principio creativo allo stesso tempo la terra che inizialmente è una divinità assolutamente femminile e che è anch'essa antropomorfa con il tempo col passare del tempo anche questa verrà ad essere completamente perderà questa natura antropomorfa e diventerà anch'essa un principio un semplice principio completamente astratto questa prima però di questa attrazione anzi questa astrazione non va in conflitto nella filosofia cinese nella nelle idee religiose dell'antica cina ma semplicemente assume un carattere diverso più ampio fa sì anzi che i concetti di base i concetti primitivi vengano ampliati e crescano ora questo cielo è il principio maschile il principio maschile e luminoso esso è rappresentato dal nella nel liching dal numero 3 ok il principio femminile della terra che è un principio oscuro e accogliente così come il principio maschile fecondante il principio maschile penetrante quello femminile della terra è un principio oscuro e accogliente ed è associato al numero 2 ok secondo la leggenda ad un certo punto il principio maschile il principio femminile si sono uniti insieme e hanno dato vita a tutta una serie di trigra ad altri sei figli ed è così che sono nati i tre grammi il il principio maschile il cielo è rappresentato da una linea intera il principio femminile la terra è rappresentata da una linea spezzata queste due linee quindi che si uniscono insieme danno vita ad un terzo figlio ed abbiamo il primo trigramma da questo primo trigramma abbiamo poi tutte gli sei figli successivi quindi abbiamo otto trigrammi che entrando in relazione l'uno con l'altro danno vita all'intera manifestazione dell'universo tutto ciò che noi vediamo tutte le esperienze che possiamo avere tutte le cose che esistono e tutti i sentimenti che noi possiamo trovare secondo la filosofia cinese dal paleolitico ad oggi hanno origine dall'interazione di questi otto trigrammi gli otto trigrammi vengono chiamati pacoa e sarebbero noi li conosciamo noi occidentali li conosciamo molto bene questi pacoa perché soprattutto negli ambienti di crescita spirituale sono molto famosi ovviamente alla base del principio del pagua esiste quello che noi chiamiamo il principio del tao il principio eccolo fa il pagua eccolo lo vedete allora abbiamo il tao al centro e poi i trigrammi vedete questi questi segni fatti da tre linee questo questo qui questo è la terra vedete perché sono tre linee spezzate quindi è tutto oscuro è tutto femminile il principio della terra e poi abbiamo questo qui opposto vedete questo è il cielo ne abbiamo tre linee tutte intere dall'unione di queste due di questi due trigrammi hanno vita tutti questi altri vedete non sono mai tutte intere o tutte spezzate queste queste poi questi otto trigrammi interagendo tra loro danno vita agli esagrammi che abbiamo visto prima e dato che sono 8 e 8 per 8 fa 64 abbiamo ben 64 esagrammi per cui tutti i numeri dispari ci danno un principio maschile e tutti i numeri pari ci danno un principio femminile questo non va preso in senso assoluto naturalmente ma sempre e solo ricordiamo in un senso molto relativo relativo alla cultura cinese allora controllo un attimo perché io vedo ok lucia lucia mi ha invitato a spiegare e fammi sapere lucia se è tutto chiaro perché naturalmente io per me le cose sono chiare fatemi sapere se per voi è chiaro se avete bisogno che ripetiamo qualche concetto allora no qui abbiamo sempre solo no mia mamma dice che non capisco è strano perché sull'agenda della mela dovrebbero vedermi ok vediamo sui tarocchi di bimba sparduta facciamo un ultimo controllino voi riuscite a seguirmi ok allora mi piacerebbe sapere ellison ma tu utilizzi le tre monete oppure utilizzi le carte e solo per curiosità mia perché se tu utilizzi le tre monete allora come funziona poi la questione delle monete poi torniamo indietro alla storia in pratica vengono lanciate ok vengono lanciate tre monete e sul su un lato diciamo il lato testa vale due il lato croce vale tre si ok e per cui sai perfettamente la questione che tutti i numeri dice quando tu sommi le monete se hai un numero dispari come per esempio il 7 hai una linea young se hai un numero pari come ad esempio il 6 o l'otto hai una linea in e quindi forse non mi ero spiegata bene io ok adesso però non si è arrivato immediatamente alle monete come vi dicevo inizialmente ci sono le tartarughe e l'utilizzo delle tartarughe ci è attestato non solo dai carapace che noi abbiamo trovato cioè non noi non li ho trovati io ma gli archeologi hanno trovato centinaia di gusci e accanto ai gusci hanno trovato anche tutte le scritte delle divinazioni che sono state fatte quindi inizialmente appunto si utilizzavano questi carapace pensate che era così importante questa divinazione che la scrittura cinese è nata proprio proprio da questa pratica divinatoria è nata così la scrittura cinese gli ideogrammi sono nati da questi segni che venivano fatti sui carapace delle tartarughe vi dicevo che oltre a questi ritrovamenti abbiamo delle leggende che ci attestano l'utilizzo della tartaruga tra l'altro la tartaruga nell'antica cina e ancora oggi è un animale molto importante intanto è un animale sacro ma forse il più sacro di tutti gli animali non so se voi avete mai visto kung fu panda io amo gli animati animi manga e anche i cartoni animati quelli occidentali in kung fu kung fu panda è un cartone animato fatto veramente molto molto bene io vi consiglio di guardarlo e rispetta moltissimo il simbolismo degli animali secondo la l'esoterismo cinese secondo la religione cinese e la religione cinese infatti è molto attenta alla l'osservazione della natura e c'è un motivo per cui viene scelto per cui ogni personaggio è un preciso animale e non altro il l'animale più importante di tutti in questo cartone animato è proprio la tartaruga c'è questo maestro il maestro tartaruga che poi ad un certo punto scomparirà perché lui è arrivata alla morte siccome è un illuminato naturalmente non muore come tutti tutti gli altri ma si si trasforma in petali di pesco si si è anche questa morte fa parte della filosofia cinese perché perché lui giunge al grande mare per il taoismo non esiste una reincarnazione di genere sì una reincarnazione simile a quella concepita dall'induismo e dal buddismo per il taoismo quando un'anima muore non si reincarna conservando la propria identità ma diventa una goccia che nel si fonde nel mare e poi ritorna a rinascere ma la sua coscienza diventa parte integrante della coscienza universale e quindi tutti noi non siamo mai nati e non siamo mai morti facciamo parte del tutto torniamo al tutto esattamente come il fiume una volta tornato al mare non è più fiume tutti i fiumi vanno al mare e perdono la loro singolarità la loro unità in un tutto e poi torneranno sotto forma di vapore acque o sotto forma di nuvole sotto forma di pioggia torneranno ad essere fiume questo è il concetto base la reincarnazione secondo il taoismo e questo è un concetto importante perché perché mentre in occidente si sviluppa un'idea di opposti che si oppongono appunto gli uni agli altri ok abbiamo bianco e nero bene e male che combattono continuamente sono sempre opposti in cina e poi in tutto l'oriente perché l'esoterismo cinese influenzerà prima di tutto l'esoterismo giapponese e poi anche tutti i paesi confinanti orientali perciò e anche per questo è così importante in cina questi due opposti due principi opposti non sono opposti ma sono complementari danzano insieme e si trasformano continuamente l'uno nell'altro per il semplice motivo che dentro l'uno c'è sempre il principio dell'altro e viceversa ed abbiamo quindi il famoso tao che noi no noi occidentali lo traduciamo in maniera molto semplicistica diciamo che nel male c'è sempre un po di bene e nel bene c'è sempre un po di male è una visione diciamo ingenua di questo ingenua semplice di questa filosofia in realtà è qualcosa di molto più complesso di difficile da spiegare è molto più facile afferrarlo con la pratica io ho iniziato a comprendere veramente cosa questo volesse dire nel momento in cui ho fatto tai chi perché quando io ho fatto tai chi mentre eseguivo la forma mi rendevo conto che ogni movimento si trasforma in maniera naturale in quello successivo e quindi vi dicevo sono principi complementari la complementarietà di questi principi ha fatto sì che appunto l'interazione di questi 83 grammi dessero vita in maniera naturale agli ai 64 esagrammi e da lì prendesse via il via l'immagina l'immaginazione che tutto il creato sia un continuo mutare un continuo trasformarsi e si trasforma in nel suo opposto e torna indietro continuamente e non trasformarsi continuo la primavera si trasforma in estate l'estate si trasforma in autunno l'autunno si trasforma in inverno e così si ricomincia da capo senza soluzione di continuità ci sono osservazioni o domande quali domande avete quali osservazioni finisco per parlare solo io naturalmente durante il seminario allora la prima cosa che faremo durante il seminario e appunto cercare di comprendere soprattutto attraverso la sperimentazione questo questo concetto anche se saremo online proveremo io credo moltissimo nella nello sperimentare alcuni concetti che vi dirò durante la conferenza veramente spiegati sembrano difficilissimi ma non è così in realtà sono molto molto semplici e anche molto molto semplice fare il cing il complicato la questione veramente complicata e spiegarlo spiegarlo specialmente per noi occidentali che non siamo abituati e questa la verità siamo è un è una una filosofia per certi versi lontana da noi tra l'altro mi è stato chiesto un'altra cosa di cui volevo parlarvi prima di andare avanti io tra i vari libri aspettate un momento otto commenti qui ok ok no niente lucia si effettivamente niente qualcuno mi diceva che appunto sono dei concetti difficili si in realtà sono dei concetti molto difficili se non si è abituati tenete conto che io ho studiato tutti questi questo è il sto cercando di condensare in questa quest'ora di conferenza circa 15 anni di studio quindi non è facile io ho impiegato 15 anni per riuscire a capire tutte queste cose qui ed effettivamente è difficile infatti durante il seminario vi dicevo quello che facciamo perché si chiama seminario base perché semplicemente io nel seminario insegno ad usare a lanciare le monete e ci varranno insomma un paio d'ore per imparare a lanciare le monete trovare l'esagramma leggere la sentenza e tutto il resto e capire come funziona e imparare a farlo in realtà poi riuscire a comprendere tutta la filosofia che c'è dietro il pensiero che cos'è il tao che cosa significa la trasformazione tutte queste cose qui richiederanno molto tempo moltissimo molta applicazione e richiede soprattutto lo sforzo uno sforzo che io in realtà è una cosa che richiedo sempre ai miei allievi lo scopo lo sforzo di cambiare prospettiva allora angela dice che c'è un libro che non comprende quello di aleandro jodorowsky allora prometto non sapevo che jodorowsky avesse scritto un libro sull'icino non mi sorprende perché lo dicevo lo dico spesso per è una cosa che mi capita tutti coloro che si sono interessati di tarocchi fateci caso ad un certo punto della loro esistenza iniziano ad interessarsi di cing non si sa bene come persino young che ha scritto la prefazione al libro di willheim ha scritto allora angela guarda io non lo conosco il libro di jodorowsky me lo procurerò non è devo dire jodorowsky non è tra i miei autori preferiti preferisco altri autori però me lo procurerò come minimo per cultura personale quindi cercherò di procurarmelo non ti so dire perché sia difficile da comprendere il libro dice o meglio in un certo senso io immagino perché sia difficile perché anche il suo libro sui tarocchi io l'ho comprato proprio per cultura personale diciamo che un pochino scrive in complicatese e quindi non so io come manuale di base se una persona proprio dice io di cing non so niente anche stefano ai libro di jodorowsky quindi io sono l'unico perché effettivamente non è tra i miei autori preferiti io vi consiglio di comprare questo qui questo qua è un libro che ha tanti anni ci sono tantissime edizioni però diciamo che è la bibbia degli cing è uno dei testi più importanti con la prefazione di jung è a cura di richard willheim si tratta di uno studioso tedesco questo studioso era appassionato di antica cina e quindi è nato nel 1873 morta nel 1930 per cui il libro appunto degli inizi più o meno tipo in primo decennio l'ultima prefazione di jung a questo libro e del 1949 però ne ha fatte diverse ci sono diverse edizioni di questo libro quella che viene venduta e un genere la trovate in diverse salse però è sempre lei e del 1949 e quella all'edizione inglese si è molto davvero molto molto bella questa ecco nel 1923 ci fu la prima edizione io con le date sono un disastro se non se non le scrivo non me le ricordo è un libro molto molto bello ve lo consiglio caldamente è molto chiaro ben fatto e diciamo che si rifà a confucio perché si rifà confucio anche questo è importante perché facciamo di nuovo un passo indietro nella storia di questo benedetto e cing che è lunghissima quindi io quello verde uguale willheim con prefazione di jung esatto ellison questo qui perché questo qui quello che è verde anche questa copertina è proprio quello base in pratica inizialmente di cing appunto vi dicevo non era un vero e proprio libro era una raccolta di sentenze ricavate da questa da questa divinazione con i gusci di tartaruga allora serena che dice sono operatrice shiatsu e ho già studiato il taoismo nonché la medicina tradizionale cinese credi che col seminario base riesca ad unire il tutto per fare la divinazione io penso proprio di sì di sì serena intanto la divinazione la potete fare a prescindere anche una persona che non sa niente 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 la divinazione base mette chiunque in grado di fare la divinazione è ovvio che è una persona come serena cappuccini che ha già fatto shiatsu che ha già fatto che conosce la medicina tradizionale cinese avrà diciamo riuscirà ad approfondire diversamente i significati dei degli esagrammi rispetto ad una persona che per esempio non sa niente diciamo che tu serena ti troverai avvantaggiata nella comprensione ma non tanto nella comprensione dice oddio come faccio la divinazione no quello no perché le cing è veramente semplicissimo e più che altro non ti troverai avvantaggiata nella comprensione profonda diciamo che il tuo percorso è l'opposto di quello che ho fatto io torniamo in tema delle cing no io ho iniziato a fare di cing poi per comprenderlo meglio ad esempio mi sono iscritta ad un corso di shiatsu se non che poi sono rimasta senza lavoro quindi ho dovuto interrompere il corso di shiatsu poi questa la scuola insomma la mia attività mi assorbe così tanto che al momento non sono in grado di riprendere ma mi piacerebbe veramente tanto e quindi facendo il corso di shiatsu facendo poi tai chi ho iniziato a comprendere in maniera più profonda alcuni concetti che sono ripeto difficili da comprendere per una persona occidentale però nel momento in cui andate a fare delle discipline che vi richiamano continuamente lo shiatsu è basato su questa cosa dello yin e dello yang note ai 70 30 è fatto in una maniera tale che piano piano si ha una comprensione più profonda di quello che lì cing ci vuole dire silvana paola dice io il libro dei mutamenti astrolabio con prefazione di jung non facile esatto è sempre questo però questo vabbè è semplicemente la l'edizione della delphi però esistono tantissime edizioni è sempre quella di willheim con prefazione di jung però trovate l'edizione della delphi trovate dell'astrolabio trovate veramente tantissime edizioni non vi preoccupate potete acquistarvi tutte non so io l'ho trovato non l'ho trovato particolarmente difficile sicuramente è un testo che va studiato particolarmente difficile soprattutto la seconda parte del testo cioè i commenti alle sentenze questi commenti alle sentenze sono stati redatti soprattutto da confucio confucio ha dato un grandissimo contributo a lì cing che poco prima di confucio era diventato un non solo un libro di filosofia non solo uno strumento divinatorio ma era diventato addirittura un libro di magia confucio che cosa fa confucio dice no togliamo tutto questo ciarpame a me dispiace che lo abbia tolto cerco disperatamente qualcosa che vi insegni anche tutte tutte le pratiche magiche che si facevano con lì cing ma niente confucio fatto piazza pulita e quindi che cosa ha fatto lui ha messo ordine ha fatto dei commenti agli esagrammi e addirittura dei commenti ai commenti ecco e c'è questa seconda parte che è veramente diventa un po difficile addirittura ci sono delle letture incrociate quindi si va a rintracciare l'esagramma che dentro l'esagramma è un universo veramente infinito infinito però io mi limito all'inizio in un seminario di base ci si limita a fare semplicemente le tre monete e poi a leggere l'esagramma che già è una è un bel carico e allora stefano dice che jodorowsky è troppo artista può essere essere io preferisco il testo classico in realtà oltre al testo classico di willeheim trovate anche altri testi trovate per esempio testi del lì cing taoista dice ma perché scusami non parla sempre di tao si allora il tao è alla base cioè qualsiasi cosa qualsiasi filosofia cinese c'è il tao alla base però confucio crea un movimento filosofico diverso da quello taoista quindi vi consiglio di rivedere anche l'approccio taoista ellison dice è semplicissimo sì e fa esatto ellison di ching è semplicissimo da fare io parlavo più della comprensione diciamo quasi filosofica che c'è poi nel momento in cui uno va a fare il ching allora prego serena cappuccini e quindi vi stavo dicendo ricontrollo se perché ho sentito il telefono fare qualche ok allora su cronache esoteriche su agenda della mela vediamo un pochino e dopo volevo rispondere ad una domanda perché è un argomento di cui volevo raccontarvi appunto questo sì tre commenti vediamo no no è sempre mia mamma che mi sta seguendo dall'altra pagina viva le mamme domani domenica e la testa della mamma e no ok non ci sono ciao argopippi mi saluta anche argopippi benvenuta tra noi allora io adesso volevo introdurre un altro argomento perché me lo hanno chiesto è un argomento importantissimo che allora eccolo qua qui ci sono le carte del feng shui naturalmente non hanno diretta attinenza con gli cing in realtà io le ho scoperte perché quando vado a fare di cing magari in dei contesti piuttosto veloci ad esempio le fiere questi questi contesti qui in cui non possiamo impiegare veramente delle ore a leggere di cing utilizzo queste carte le carte del feng shui il feng shui è un'arte anche questa che secondo la leggenda nasce più o meno in epoca preistorica o quasi collegata a quella che la geomanzia ora io non sono un esperta di geomanzia perché non ci si può occupare di tutte le divinazioni esistenti però esperti in geomanzia dei quali io mi fido perché io sono fatta così quando qualcun altro è esperto in qualcosa io mi fido di quello che mi dice mi hanno assicurato che appunto il eccolo qua guardate questo questo schemino è molto grazioso vedete questo è lo schemino dei due trigrammi principali che danno vita agli altri 64 del è uno dei tanti schemi di come poi interagiscano questi questi trigrammi tra loro e quindi mi era stato chiesto se li cing abbia attinenza con la geomanzia si il feng shui attinenza con la geomanzia feng shui vuol dire acqua e vento feng e vento e quindi si presuppone appunto che cos'è il feng shui è appunto lo studio della della disposizione della geografia e delle energie che si muovono nei posti nei luoghi e quindi di come fare perché il c positivo sia ci si scorra più più agevolmente e quindi renda la nostra vita prospera questo parte anche dal presupposto che per i cinesi non esiste un paradiso non esiste un premio come vi dicevo prima loro non hanno una visione delle reincarnazioni di tipo lineare come accade per esempio per gli induisti per gli induisti la reincarnazione è lineare ok cioè tu ti trovi in un punto e che cosa fai puoi salire o scendere nella scala delle reincarnazioni ma resti sempre tu uguale e per i buddhisti tant'è che cioè la tua coscienza la tua essenza rimane sempre la stessa poi ti puoi reincarnare in un animale in una persona ricca in una persona povera secondo i meriti e i demeriti che acquisisci puoi muoverti su questa immaginaria piramide su questa scala sali o scendi e più meriti ai più sali e in cima alla scala c'è il nirvana questo è ciò che pensano gli induisti e i buddisti naturalmente la filosofia buddista e induista è molto più complessa di così ma ci abbiamo messo un'ora per capire per capire come non è quindi dobbiamo fare un'altra conferenza apposta invece secondo il taoismo non c'è questa scala è un cerchio è un cerchio tutto e qui ed ora anche il paradiso e l'inferno sono qui ed ora non c'è un premio o una punizione perché tanto quando muori finisci nel tutto finisci nel tao e quindi finisci nella nello stato primordiale e dopodiché quando torni sulla terra non sei più tu perché la tua coscienza non rimane singola dopo la morte e perciò loro cercano di produrre il paradiso qui ed ora e il feng shui a questo questo compito di produrre il paradiso qui ed ora poiché i trigrammi sono alla base di tutta la manifestazione sono alla base anche del feng shui e quindi il feng shui e li ching alla fin fine comunicano li ching è come se fosse alla base di qualsiasi qualsiasi attività pensate che nel nel tai chi esiste una forma che si chiama pagua e questa forma è proprio c'è la persona al centro che compie otto movimenti intorno a se stessa e questa forma permette di combattere affrontando più nemici contemporaneamente ricordiamoci che il tai chi è sempre un'arte marziale oggi è stata un po declassata ad una sorta di filosofia di meditazione in movimento però è un'arte marziale e quindi tutti i movimenti hanno uno scopo ma nell'arte marziale del tai chi sfrutti la forza dell'avversario per vincere non è un'arte è un'aggressività passiva quasi nel senso che strana da da spiegare però appunto non non cerchi di di combattere ma accogli accogli comprendi senti la forza dell'avversario e la rigetti dall'altra parte e quindi sei forte non perché sei aggressivo ma perché sai trasformarti e questo è diciamola il senso per ultimo io vedo che la nostra ora è scaduta ci sarebbero tantissime cose ancora da dire tanto 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 da raccontare vi racconto soltanto alla fine la leggenda della nascita degli cing e poi vi spiego qualche cosa sul seminario nel frattempo voi se avete delle osservazioni potete scrivermi le vostre osservazioni potete scrivermi le vostre domande qualsiasi cosa mi rende mente scrivete pure dunque come nasce il cing c'è un un re mitico una coppia mitica si tratta di fusi e la moglie di fusi io mi dimentico sempre come si chiama vediamo se la trovo pagina no 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 non è qua 289 dovrebbe essere la pagina sì quasi trovata mutamenti di ciò scusatemi perché no non la trovo il nome fusi me lo ricordo perché è il capo stipide in pratica in pratica è un essere un re mitico per metà uomo e per metà drago e sposa sua sorella che anche lei è per metà donna e per metà drago tra l'altro il costo l'abito da sposa tradizionale cinese affonda le sue radici in questa leggenda fusi e sua sorella si amavano tantissimo e si alla fine si sposarono ma lei era vergognosa perché stava sposando suo fratello e per questo motivo coprì si coprì il volto l'abito da sposa cinese è rosso perché il rosso secondo i cinesi è il colore della vita e il colore dell'energia e il colore che porta fortuna quindi in genere si vestono di rosso quando vogliono la fortuna la prosperità perciò in un matrimonio ci si me ci si indossa l'abito della fortuna l'abito della prosperità l'abito dell'abbondanza ed è anche per questo che io mi sono vestita con un abito molto rosso le labbra rosse rosso e oro e così appunto è un un eroe mitico che un giorno meditando su un guscio di tartaruga meditando su questo guscio di tartaruga vede appunto gli otto segni dei trigrammi e al centro il nono segno del tau e da lì lui studiando questi otto segni riesce a comprendere l'universo e poi lo insegnerà a tutti gli uomini lui è un dio civilizzatore e quindi vi dicevo appunto abbiamo la storia di della dell'icin e il il pago a riproduce un carapace di tartaruga poi vi volevo far vedere delle altre immagini questa se riesco a eccola qua questa qui è un'immagine che ritrae degli indovini vedete stanno lanciando i bastoncini che inizialmente si usavano come vi dicevo i bastoncini di achillea millefoglie era in realtà inizialmente questo sistema divinatorio era basato sui numeri sulla numerologia viene poi successivamente adattato all'icin e abbiamo poi appunto il lancio delle monete eccetera eccetera come con l'achillea millefoglie veramente molto difficile ecco qua vedete è il carapace di una tartaruga stilizzato la tartaruga rappresentava il cosmo perché perché il carapace è piatto sotto come come la terra e sopra invece è una cupola come il cielo inoltre la tartaruga che cosa fa a quattro zampe che escono dalla carapace come i quattro punti cardinali e perciò rappresentava proprio il cosmo che si muove inoltre essendo le tartarughe particolarmente longeve rappresentano l'eternità e quindi gli dei e inoltre chi ha vissuto molti anni ha avuto molte esperienze e ha accumulato molta saggezza ed è per questo che la tartaruga è l'animale più importante per per la filosofia cinese bene noi siamo arrivati oramai quasi alla fine io vi ringrazio per essere stati con me spero che vi siate incuriositi dell'icin e che comprerete tutti i libri vi do intanto una bibliografia come promesso scrivete alla libreria l'alchimista per ordinarli quelli che sono ordinabili allora questo la leaching con a cura di richard willheim e con prefazione di young la mia edizione è quella della delphi ma come abbiamo già detto trovate tantissime edizioni di questa stessa versione dell'icino quindi non preoccupatevi voi chiedete semplicemente quella con curata da richard willheim con prefazione di young poi l'edizione non è tanto importante poi un libro che io consiglio vivamente di di studiare è questo qui storia della divinazione di giordano berti è un libro più difficile da trovare mentre questo credo che si possa addirittura trovare in biblioteca nella biblioteca comunale questo qui è molto difficile però voi provate ugualmente a contattare pierre viviano perché nella libreria l'alchimista avete a questa particolarità trovate anche dei libri fuori catalogo quindi potreste trovarlo se non lo trovate la libreria l'alchimista dovete un po smanettare ma è un testo molto importante perché vi aiuta a comprendere la storia della divinazione in tutto il mondo e secondo me è importante conoscere la storia della divinazione per capire un attimino da dove veniamo quali idee hanno ispirato alcune divinazioni e per capire anche cos'è davvero la divinazione poi un altro libro importantissimo secondo me siamo sempre in ambito storico ecco qui si tratta di un cofanetto con tre libri eccolo qua vedete storia delle credenze e delle idee religiose di mircea eliade questi sono dell'edizione della burka allora se voi riuscite a trovare un'edizione diversa da quella della burro comprate l'edizione diversa perché purtroppo l'edizione della burra da un punto di vista cioè veramente di qualità pessima vi rimangono i fogli in mano tra l'altro questo questo è un libro da studiare un libro da sottolineare c'è necessità di aprirlo non anche a voler a non volerlo maltrattare a me non piace maltrattare libri però è un libro che va studiato che va a letto più volte e questo si fa fogli fogli però ciò di buono che dovrebbe essere economica credo è un regalo quindi non so quanto sia costata però se riuscite a trovare un'edizione diversa tanto di guadagnato infine questo questo libro che vi ho fatto vedere questo è molto difficile che lo troviate provate a chiedere viviano e pierre io l'ho acquistato a ad un mercatino di libri usati a milano quindi non vi so dire non vi so dire cioè più facile che lo troviate su ebay si tratta di di un inserto della de agostini per per un'enciclopedia l'enciclopedia dimensione x quindi quasi improbabile però è molto è molto grazioso è molto grazioso ma non fondamentale invece gli altri due libri che vi ho consigliato quelli si sono praticamente fondamentali quello più fondamenti quello più importante è naturalmente quello di we line però gli altri due per avere una cultura è più forte sulla divinazione in genere sono abbastanza importanti poi il mio consiglio che veniate a fare il corso con me che non facciate il corso con me perché potete anche semplicemente comprare il libro e studiarvi il manuale da soli e non è che sia impossibile il mio consiglio è quello di cercare di approfondire la cultura cinese in tutti i modi possibili perché perché se non potete comprendere perfettamente il linguaggio di questo strumento eliminatorio davvero straordinario io vedo che non ci sono altri commenti controllo un'ultima volta nel frattempo vi dicevo è uno strumento straordinario vi voglio raccontare una cosa perché leggendo il libro di giordano berti giustamente berti io penso che sia una domanda retorica ma si chiede no queste sentenze hanno poi cioè come fai a a comprenderle nella realtà perché appunto hanno una particolare queste queste sentenze che sembrano astruse in alcuni casi no ad esempio leggo una a caso ne prendiamo una caso vediamo qua 13 amici innamorati abbiamo sopra chi è il c'è il cielo e sotto lì il fuoco l'intelligenza la bellezza il giudizio è amicizia e sincerità significano successo conviene attraversare la grande acqua l'uomo superiore perseverando fa progressi vista così la sentenza uno dice che vuol dire e sembra assurdo ma la cosa che io amo più di tutte con lì cing è che quando gli fai una domanda lui ti risponde come se fosse una persona ti sembra davvero di avere una persona lì e ti dà le risposte pensate che l'altro giorno una mia cliente mi ha fatto due domande la prima era se avrei avrebbe dovuto accettare o meno una proposta lavorativa e lì cing le ha detto proprio chiaramente bisogna muoversi cioè la sentenza diceva non non è proprio non è propizio recarsi in alcun luogo quindi la risposta era chiara cioè come una persona che risponde dopo di che questa persona ha chiesto se sarebbe riuscita a dimagrire mi è rimasta così impressa questa cosa ed è venuto fuori un esagramma che si chiama gli angoli della bocca pensate e la sentenza di questo esagramma descrive gli angoli della bocca e e dice che bisogna stare attenti a quello che si mangia bisogna fare attenzione a quello che si mangia è così preciso quando dà delle risposte addirittura mi è capitato più di una volta una volta di rifà mi è capitata questo è un esagramma che mi è capitato diverse volte ma mentre le altre volte io ho potuto lo stavo facendo a me stessa quindi potevo pensare magari sono io questa volta mi è capitata una consultante mi fa la domanda e dicendo le risponde risposta secca che interrogato una volta io rispondo chiedere due volte è inopportuno era la prima volta in vita mia che vedevo questa ragazza però ero ad un evento in cui c'erano altri divinatori e le persone cosa facevano andavano dai vari operatori a farsi fare insomma dei servizi cioè c'era chi faceva le carte c'era chi faceva il viaggio somanico c'era chi faceva i massaggi quindi questa persona poteva essere andata da farsi fare un massaggio poteva essere appena arrivata io non sapevo niente di lei però vedo questo esagramma interrogato una volta d'ora e spodo risposta interrogare di nuovo è inopportuno anche le faccio scusa gli cing sta dicendo che ti ha già risposto non so come non so quando ma ti ha già risposto e ti devi fidare di questa risposta ed è mi fa ho appena chiesto cioè prima di venire da te sono andata a farmi fare le carte da un ragazzo che era dietro di te però la risposta non mi piaceva e ho cercato ti sono fatto a fare lì cing da te perché magari mi davi una risposta che mi piaceva di più per cui vedete è veramente come è straordinario è come avere una persona in carne ed ossa che vi dà delle risposte quindi io mi auguro davvero di avervi fatto venire la curiosità e naturalmente spero che voi veniate al seminario però la mia speranza più grande è che voi compriate il libro e vi avvicinate a quest'arte meravigliosa a prescindere a prescindere che voi veniate o no al seminario io ci sono li faccio sempre però mi auguro davvero di avervi incuriosito su lì cing per il semplice piacere di sapere che quest'arte viene conosciuta da quante più persone possibili e tra l'altro la filosofia dellì cing può veramente cambiare la vostra vita cambiare davvero il vostro modo di vedere la vita e di viverla quindi vi auguro di appassionarvi e per chi fosse interessato il seminario è domenica 17 maggio ok elison mi dà ragione per dice lei una volta l'ho fatto ad un suo amico che non crede e dice la persona che chiede non crederà alle parole che legge esatto cioè risponde esattamente come se fosse una persona è da brivido veramente da brivido è fantastico ed è sempre dolce almeno con me è sempre molto molto dolce molto buono e anche nelle risposte diciamo quelle che mi aspetto che voglio meno però è sempre dolce è sempre carino e quindi vi dicevo che domenica 17 maggio alle ore 15 e 30 ci sarà il seminario per descrizione potete scrivere in privato qui sulla pagina e pierre viviana vi daranno tutte le informazioni per partecipare il seminario si terrà online rigorosamente in una stanza in una in un'aula virtuale di zoom zoom è una nuova applicazione che sta sta diventando molto famosa molto usata ovviamente è gratuita un'applicazione gratuita che potete scaricare potete utilizzarla sia dal computer sia dal cellulare tranquillamente la lezione sarà online e niente avremo lo schermo condiviso io comunque vi farò vedere tutte le cose passo passo impareremo ad utilizzare le cing la il fine della lezione è quello di rendervi in grado di fare divinazione con di cing dopo il seminario io sono sempre disponibile per qualsiasi domanda per qualsiasi dubbio per per qualsiasi vostro vostro desiderio di approfondimento io ci sono sempre potrete quindi comunque scrivermi in privato potete scrivermi su whatsapp potete comunque continuare a studiare senza si richiede una spesa ulteriore a meno che non si vadano poi a fare dei seminari di approfondimento naturalmente però appunto io sono sempre presente niente io vi lascio spero appunto che il pomeriggio sia stato piacevole vi invito se avete voglia a partecipare alla diretta che terrò alle 18 e 15 sul profilo instagram ai tarocchi di bibba sperduta nel quale dal lunedì al sabato c'è la possibilità di vincere un seminario di divinazione e cartomanzia ancestrale naturalmente il seminario non è la vogliamo per niente e niente io vi invito ogni ogni settimana ogni giovedì sera tornate qui sulla pagina perché ci sarà una mia diretta su un argomento legato all'esoterismo e alla divinazione e felice sabato e felicissima domenica tanti auguri tutte le mamme e ci vediamo presto un abbraccio ciao